Ci sono tutte le storie, gatti trovati dentro il motore della macchina, gatti, mamme arrivate con o incinta troppo avanzato oppure già con le cucciolate, gattini purtroppo buttati dentro il cassone dell'immondizia. È un copione che si ripete identico anno dopo anno con l'arrivo della primavera e dei primi caldi, anche lo scudo di panna come molte altre associazioni animaliste è sommerso dalle richieste di aiuto. Noi si accoglie più gatti possibili, però fino a quanto se ne può accogliere. Il rifugio aretino ha colto in poche settimane decine di mamme feline, altrettanti gattini nella maggior parte dei casi in pessime condizioni di salute. Purtroppo il problema della sterilizzazione ancora è parecchio grosso come problema. Non c'è modo di arginare questa situazione se non ogni persona che trova un gatto sarebbe meglio sterilizzarlo. Tanti poi anche i gattini trovati senza mamma. L'impegno giorno e notte si può dire, perché i primi giorni sono veramente giorno e notte, di allattare queste creature che ovviamente noi ci mettiamo veramente tutto l'amore, tutta la passione che abbiamo, ma non è la mamma. Lo scudo di panna al momento accoglie un centinaio di gatti adulti, anche loro, in cerca di adozione come Petra e Adele, FIF positive. Che hanno un carattere veramente stupendo, io spero veramente di trovargli casa.